Allora, adesso aspettiamo di andare online e poi cominciamo con il mondo numero 5 Siamo online, siamo su Kirby, Monte Frittella Allora Allora, vediamo un po', siamo online Monte Frittella, sarà entusiasmante No! Ci siamo fatti fregare, mi sa Aspettiamo un attimo Mi sono fatto fregare dell'entusiasmo Molto bene Non c'è un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Situazione. Ah ci voleva la fusta lo stesso. Beh che poi se vogliamo. Non so se ce la rispona. Non fa mai male una di tempo. Non so se ce la rispona. 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 Stavo rispondendo alla chat. Ah, in sto letto non ci va mai. A letto ci vai quando hai 90 anni. Bravo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. Torneremo. No, no. No, 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 no. Allora, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Sì, no, era un boss zappa, però sai, in due l'avevi distrutto, in quattro non ne voglio sapere, una Royal Rumble? Direi senza pausi, senza lode, senza tutto, abbiamo finito il ribellaccio. Molto bene. Allora, sono... Allora... 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 All right. Banane. Ma a capire se arriva lì con la corda. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ma ne hai con ingranaggio? ma ne hai con ingranaggio? Non c'è quel livello tutto così a enigmi eh, perchè c'è da piangere. Non c'è quel livello tutto. 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 nascosta perfetto mondo 3 completato rimane il troll del mondo 2 c'è il mondo 5 e il mondo bosch? mondo 5 e poi c'è il bosch via 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 nooo ma guarda che roba ho tentennato per provare a prendere vedi questa è stata la punizione vabbè qui dopo eh bisogna essere anche un attimo complicati eh lo scarpone tanta roba un po' la super mario eh 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 una vita con lo scarpone la 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 eh 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 ma qui magari capisco un attimo ok infine ah 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 eh ah Buongiorno! vuol dire vuol dire se c'è bonkers potenziamento ah c'è un talpa maledetta non non Sì, sì. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bella, andiamo a fare il boss. Adesso prendiamo anche due vite. No, non prendiamo un bel niente. No, 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 no. No, 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 no. ma io te rai qualche stocco di quaggi C'è un grosso. Oltre bene a fare il presto che se no non mi ha fregato è una chance a potere non è proprio il maschino è una strugia Ah Ah vabbè ero morto praticamente no pensavo che fosse acqua no mi sa che l'attacco spam migliore è questo no 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 Oh Oh A meraveira Grazie a tutti. Allora, vediamo un po' cosa ci da di notizia. Allora, vediamo un po' cosa. 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 Allora, vediamo un po' Allora, vediamo un po' cosa. Ok, l'unico problema... Adesso è... Tornare a fare l'altro mondo. Ok, io direi di salutarvi qui, vado a recuperare l'ultimo ingranaggio e noi ci vediamo al prossimo con il mondo industrie in voltino. Ciao a tutti.